Italia Masala Pasha Baggari Buonasera, benvenuta Buonasera, benvenuta Buonasera, benvenuta Buonasera, benvenuta da 65 anni che faccio la psicoterapeuta mi occupo di bambini, adolescenti, adulti e in realtà penso che a qualsiasi età si può fare aiutata un psicologo per vivere meglio. Inoltre stasera sono una scrittrice, che è una cosa che mi è capitato per l'esperienza, per la spinta delle persone che mi hanno detto, devi scrivere, devi scrivere, perché la tua esperienza è unica. Io ringrazio tutto il pubblico e Roberto che mi sta molto dietro e io sto dietro a lui. Stasera è veramente commovente arrivare a avere un premio alla carriera, mi sembra incredibile. Grazie. Il premio alla carriera, scrittrice di eccellente livello, ha operato con i più prestigiosi marchi editoriali, regalando all'umanità opere di straordinario valore, divenute veri e propri best-seller editoriali apprezzati a livello internazionale.